La parte più espressiva delle persone, il volto, spesso le nasconde. I nostri tratti, i nostri movimenti, ci definiscono solo nello spazio. Le persone ci definiscono nel tempo. Ho scelto nove di queste persone e ad ognuno ho segnato una parte del corpo di Fabio per definire al meglio Marra. Grazie a tutti.